Leggere è bello, è bello perché possiamo utilizzare la lettura per fare tante delle attività quotidiane che ognuno di noi ama fare. È bello anche perché siamo riusciti in questo festival a mettere insieme le neuroscienze con la pedagogia sperimentale, con gli studiosi di libri, con gli editori. Quindi abbiamo raggiunto una bella soddisfazione perché il tanto pubblico credo abbia apprezzato questi diversi tagli che noi abbiamo dato all'attività del leggere.